cari amici di visione tv benvenuti al nostro nuovo appuntamento è tornato a trovarci diego fusaro ciao diego caro saluto un caro saluto da diego fusaro ecco diego ha appena dato alle stampe il suo ultimo libro facciamolo vedere eccolo qua odio la resilienza contro la mistica della sopportazione per rizzoli diego qual è la tesi che tu sostieni questo lavoro la tesi di fondo è che l'ideologia neoliberale abbia una sua fondamentale ontologia che è quella per cui non esistono alternative there is no alternative cosicché l'atteggiamento che viene richiesto ai docili servi del mondo neoliberale quello di accettare tutto di supportare e sopportare il mondo così com'è non perché sia buono ma semplicemente perché si presume che sia intrasformabile la virtù che esprime tutto questo che poi la virtù per docili schiavi remissivi e appunto la resilienza il potere oggi non ci chiede se non di essere resilienti cioè di subire in silenzio trovando tutt'al più chance di sviluppo individuale di crescita soggettiva negli urti e nei traumi che quotidianamente l'ordine asimmetrico della globalizzazione neoliberale ci impone insomma la resilienza diventa la virtù che i padroni la plutocrazia neoliberale pretende dai dominati volendo vedere nei dominati una massa di docili arrendevoli servi e non certo di antagonistici e battaglieri pugnaci e irredenti ribelli ecco questo è il cuore della questione la resilienza diventa non per caso una parola passepartout dell'ordine linguistico neoliberale la troviamo in posizione strategica nel piano nazionale di riprese e resilienza dell'euro in omane di bruxelles ex goldman sachs mario draghi la troviamo già nel 2013 al cuore del world economic forum che lanciò la parola d'ordine dinamismo resiliente insomma è una parola dei padroni che la impiegano esattamente per giustificare l'accettazione supine cadaverica dell'ordine dominante da parte dei dominati tra l'altro è interessante anche ricostruire pur brevemente nel libro c'è un capitolo dedicato a questo ricostruire la storia del concetto perché il concetto di resilienza nasce in ambito metallurgico si chiama tecnicamente resiliente il metallo che subisce un urto e riacquista poi la forma che aveva in origine è curioso dunque che questo concetto originariamente metallurgico si sia traslato all'ambito dell'umano nell'apice di quella che potremmo dire tranquillamente la reificazione cioè ricondurre al rango delle cose ciò che propriamente è umano il tempo del neocapitalismo liberista si caratterizza esattamente per essere un tempo di reificazione dove tutto viene ricondotto alla forma merce che diventa come l'io penso cantiano che accompagna ogni nostra rappresentazione debiti e crediti nelle scuole investimenti affettivi l'azienda italia e poi dulcis in fundo la resilienza come virtù pretesa dall'ordine dominante il concetto poi nel nella sua avventura storica dall'ambito metallurgico trapassa alla sfera psicologica dove ha il suo statuto più pertinente proprio in ambito psicologico ha pienamente senso il concetto di resilienza gli psicologi fanno un ottimo lavoro mediamente nell'utilizzare questo concetto perché il concetto di resilienza in chiave psicologica viene applicato alla sfera che io nel mio libro chiamo dell'ineluttabile quando si ha ad esempio un lutto familiare quando viene diagnosticato una malattia incurabile o quando ancora si è costretti a vedersi amputato un arto supponiamo cioè di fronte a eventi ineluttabili lì ha senso la resilienza cioè il lavoro su se stessi per adattare il trauma senza soccondere il problema tuttavia si ha quando ed è il terzo momento della storia del concetto esce compie un esodo dall'ambito metallurgico prima psicologico dopo e diventa un passepartout della politica dell'economia e della società cosa accade quando il concetto dalla sfera dell'inevitabile si applica alla sfera dell'evitabile che senso ha chiedere la resilienza al cospetto di riforme del lavoro inique o di fronte a norme vincolanti e liberticide significa pretendere l'adattamento presupponendo esattamente che le riforme del lavoro le novità introdotte di volta in volta dall'ordine neoliberale siano immutabili intrascendibili e destinali come i lutti o le malattie incurabili a cui soltanto dobbiamo adeguarci per non soccondere qui abbiamo la valenza propriamente ideologica squisitamente neoliberale del concetto che come ricordavo presuppone un'ontologia centrata sulla mistica della necessità a cui si richiede poi di agi di reagire con mistica della sopportazione sopportate il mondo non perché sia buono ma semplicemente perché there is no alternative questo recita il logoro ritornello neoliberale formulato e coniato da margaret thatcher in origine e oggi divenuto diffuso nell'immaginario collettivo nel quadrante destro come in quello sinistro non per caso il there is no alternative diventa la frase prediletta dai politici di ogni estrazione e l'ordine neoliberale esattamente ha questo suo fondamento il negare le alternative per convincerci circa l'ineluttabilità dell'ordine delle cose di modo che anziché provare a percorrere la via della ribellione della rivoluzione della trasformazione e del mutamento dell'ordine delle cose accettiamo supinamente io nel libro traduco tutto questo in una formula generale la resilienza a questo schema generale poiché l'oggetto non può essere trasformato essendo immodificabile tutto ciò che il soggetto può fare per non soccombere ai dinanzi agli urti dell'oggetto e mutare il soggetto cioè mutare se stesso la resilienza ci chiede insomma di mutare noi stessi per farci adattivi per non soccombere di fronte a un ordine ingiusto iniquo e asimmetrico che tuttavia non può essere cambiato e rispetto al quale possiamo solo cambiare noi stessi per farci più adattivi questo è il paradigma generale che come evidente rovescia e scardina il paradigma della rivoluzione o della ribellione o della resistenza in questo paradigma infatti avevamo come prerogativa il fatto che al cospetto di un oggetto iniquo traumatico obiettivamente tale da cagionare sofferenza nei soggetti i soggetti si organizzavano in forma politica in forma organizzata per mutare l'oggetto e avevamo allora la rivoluzione la ribellione la resistenza che sono poi figure ridotte all'essenziale di soggetto che muta l'oggetto la resilienza rovescia il paradigma dicevo da che presuppone che sia il soggetto a mutare il soggetto per accettare meglio l'oggetto predicato immutabile e quindi da ciò scaturisce un paradosso che è il paradosso del nostro tempo sul piano politico l'ordine neoliberale produce la neutralizzazione del politico ciò che car smith già chiamava la neutralisirung la neutralizzazione cioè la spoliticizzazione l'ordine neoliberale si caratterizza infatti per sostituire la politica con la tecnica i politici con i tecnici la politica con la governabilità o per usare una coppia dicotomica della lingua inglese nell'ordine neoliberale non c'è più il government ma c'è la governance che è l'autogoverno dei mercati dove i politici vengono sostituiti da tecnici che altro non sono se non i manutentori dei mercati che debbono funzionare senza impedimenti e senza intralci per questo paradossalmente nell'ordine neoliberale la politica tende a evaporare l'ordine neoliberale neutralizza la politica perché predica intrasformabile il mondo dato che solo può essere accettato e sopportato per questo spariscono le piazze organizzate della contestazione politica le piazze vuote di cui già diceva pasolini le officine scorate le piazze vuote e resta invece il lettino dello psicanalista sì perché se tu non puoi adoperarti per cambiare il mondo che è dichiarato oggettivamente intrasformabile e puoi solo cambiare te stesso allora se ti trovi in dissidio con il mondo dato che però è intrasformabile devi lavorare su te stesso e quindi devi andare dallo psicanalista per trovare una via di adattamento rispetto a un ordine delle cose che potrà anche non piacerti ma che è il solo dato perché there is no alternative e quindi abbiamo la sostituzione delle piazze corali della politica con il lettino individuale dello psicanalista come ha magistralmente detto ulrich beck il teorico della società del rischio l'ordine della società del rischio è quello che chiede soluzioni biografiche a problemi sistemici i problemi sistemici il lavoro precarizzato la condizione di miseria e di pauperizzazione crescente richiedono non una trasformazione della società in chiave rivoluzionaria o riformistica ma un mutamento soggettivo dell'individuo che deve farsi adattivo e deve anzi dire grazie di fronte a questi mutamenti che gli permettono questo è il danno oltre la beffa come si dice di crescere spiritualmente individualmente soggettivamente ecco possiamo dire che se il grande mito della resistenza fu spartaco lo schiavo che lottava per liberare se e i suoi compagni facendo valere quello che hegel chiama l'imprescrittibile diritto di spezzar catene il mito fondativo della resilienza è quello di paperino da che paperino nei cartoni animati come nei fumetti altro non fa se non subire quotidianamente botte su botte e ciò non di meno procede col sorriso stampato sulle labbra e insegna dunque agli spettatori o ai lettori l'esigenza di fare altrettanto di subire la quotidiana dose di botte che il mondo sotto le insegne del capitale produce e vibra sopportandole con lieta ed ebete euforia perché sono occasioni di crescita individuale che permettono all'individuo di maturare di farsi più consapevole e di sopportare meglio il mondo ecco perché la resilienza è una virtù che piace tanto al blocco neoligarchico liberista da che è il sogno di ogni padrone avere degli schiavi resilienti che accettino con ebete euforia e con resa colma di gratitudine le quotidiane ingiustizie potremmo dire con le grammatiche di gramsci che la resilienza è una figura fondamentale della subalternità e la caratteristica propria di chi oltre a essere dominato materialmente lo è anche mentalmente di chi cioè ha catene sia materiali sia simboliche e subisce con resa colma di gratitudine il potere anziché contestarlo sotto questo riguardo sarebbe davvero interessante nel libro provato a farlo mostrare il modo in cui negli ultimi anni si è affermata la categoria di resilienza essenzialmente dagli anni 2000 diventa un passepartout linguistico del nostro lessico non solo in italia in vero anzi in italia arriva piuttosto tardi la parola resilienza compare prima nella lingua inglese ad esempio e diventa appunto una categoria chiave la si trova letteralmente ubiquitariamente dislocata nel lessico della politica come dell'economia della società e di ogni altro ambito siate resilienti è il grande imperativo che ci viene richiesto dall'ordine della produzione il resiliente è colui che continuamente cade e si rialza senza mai mettere in discussione l'ordine che ogni volta lo fa cadere il resiliente è come l'erba che viene calpestata e poi acquista ogni volta la forma che aveva in partenza senza mai ribellarsi e anzi accettando supinamente il potere per questo la resilienza viene continuamente evocata e diventa davvero una categoria fondativa del potere simbolico con cui i gruppi dominanti mirano a controllare i gruppi dominati. Diego in questo periodo si parla molto di libertà di democrazia di diritti e lo si fa per costringere la gente ad aderire ad un modello ad un paradigma che è dato per scontato quello dell'occidente libero democratico dove il popolo è sovrano contro le tenebrose autocrazie dell'est dove invece l'oppressione sarebbe la regola e magari lo dicono persone che hanno appena finito di mostrare un green pass dopo aver fatto la quarta dose ed essere state magari impossibilitate nell'esercitare i più banali diritti di parola perché censurati ripetutamente da questi grandi colossi big tech. Ecco noi continuiamo a dirci da soli di essere democratici liberi in maniera come dire quasi pappagallesca senza entrare più nel merito delle cose. E' proprio così anzi possiamo dire che in fondo è l'attività più semplice che ci sia mostrare le contraddizioni degli altri mondi storici siano essi quello russo quello cinese o quello cubano. Molto più arduo invece vedere le proprie di contraddizioni. Sotto questo riguardo io cito sempre l'aneddoto di quell'esule dall'unione sovietica che giunto in Europa interrogato dagli europei disse falso era tutto ciò che ci dicevano su di noi ma vero era tutto ciò che ci dicevano su di voi perché effettivamente noi siamo specializzati nel vedere le contraddizioni realmente esistenti peraltro della Cina, della Russia, di Cuba, del Venezuela. Siamo invece molto meno abili perché siamo già da sempre all'interno della caverna e come insegna Platone se tu nasci nella caverna non sai cosa sia una caverna, non sai di esserci e non avverti l'esigenza di uscirne, non riusciamo a vedere le contraddizioni di un mondo il nostro in cui evidentemente chiamiamo democrazia una docile levigata in libertà in cui a comandare realmente sono semplicemente i mercati e le loro classi di riferimento utilizzando ove possibile mezzi che all'apparenza sono democratici, un finto pluralismo in cui i plurali ribadiscano tutti il medesimo e ove ciò non sia più possibile utilizzando metodi non idilliaci, forme di controllo che sempre più rivelano l'avvenuto divorzio fra capitalismo e democrazia, anzi ci rivelano come forse le perfettibili democrazie del Novecento rispetto alla storia del capitalismo sono state un'avventura esterna, una sorta di incidente di percorso, tant'è che dopo l'89 sempre più si spezza l'equilibrio tra Stato e mercato e quindi tra democrazia ed economia. Stiamo entrando effettivamente in un mondo occidental capitalistico che non solo va dissolvendo i diritti del lavoro e i diritti sociali, come era peraltro evidente, come è coessenziale alla logica stessa del capitale, ma che sta polverizzando anche le libertà individuali. Curioso per un mondo storico che aveva fatto della libertà individuale il proprio vessillo ideologico e che in realtà sta producendo forme di alienazione, di sfruttamento, di miseria e di polverizzazione della libertà individuale che rendono in qualche modo imperfette addirittura le dittature del Novecento, facendo apparire Orwell, ingegnere di distopie, come un dilettante.